da Filippo e da Bianca oggi vi parliamo di un animale veramente eccezionale Bianca chi è? è lo squalo? no è il delfino? no è la tartaruga di mare? no e chi è? l'oloturia l'oloturia conosciuta anche con il nome di cetriolo di mare è veramente incredibile andiamola a conoscere ecco qui abbiamo due oloturie vedete Bianca di solito le chiama in un modo nell'acquario dice che è quel vermone vero Bianca? sì in realtà questi non sono dei vermi anche se sembrano vermi appartengono al gruppo degli echinodermi come le stelle marine ricci che abbiamo visto l'altra volta però non li assomigliano per niente perché a differenza dei ricci e delle stelle marine loro hanno una bocca da questa parte e di qua c'è il sederino lano ora se noi li giriamo ci accorgiamo che sono degli echinodermi perché hanno i pedicelli ve li ricordate questi qui bianchi le loro zampette con questi loro riescono a muoversi che loro camminano sulla sabbia sugli scogli con quei pedicelli lì li posso toccare? certo fai fagli una carezzina bravissima le oloturie hanno dei superpoteri perché come diceva Bianca che gli sembrano dei vermoni anche ai pesci potrebbero sembrare dei vermi e quindi li potrebbero scambiare per delle facili prede perché loro camminano così piano piano non sono velenose non sono veloci non hanno una tana che li può difendere e quindi sembrerebbe facilissimo poterseli mangiare invece sai bianca qual è la loro difesa? si è sputare l'acqua bianca loro possono sputare l'acqua immaginiamoci che un pesce gli voglia dare fastidio e sia lì che se li vuole mangiare e si avvicina loro prima gli sputano un po' d'acqua poi hanno una mossa veramente segreta come spider man che fa spider man bianca? spider man prima sputa le ragnatele e poi e poi se ne va via rapidamente brava eppure loro lo fanno possono sputare delle specie di ragnatele ovvero dei filamenti bianchi che si chiamano tubuli di cuvier che sono appiccicosi e quindi se un pesce si avvicina e loro gli sparano tutti questi fili appiccicosi il pesce dovrebbe andare via giusto bianca? si però se il pesce è testardo e continua ad andare lì e dire io me lo voglio proprio mangiare questa oloturia loro sai che fanno? una cosa proprio incredibile prendono il loro intestino quello che sta dentro al loro corpo e lo sputano fuori dal loro corpo in questo modo il pesce dirà vabbè è inutile che io continuo a provarmi a mangiare tutta questa oloturia cioè qua questo bel intestino mi mangio questo intanto giusto? e loro si salvano perché sono in grado di ricostruirsi l'intestino e questo è un altro indizio che ci fa capire che sono degli chinodermi perché possono rigenerare le parti del loro corpo come facevano le stelle marine con le braccia loro lo fanno con gli organi interni domanda per te che cosa si mangiano le oloturie? la sabbia la sabbia? e che ci trovano dentro la sabbia? niente no no ci trovano in mezzo alla sabbia ci sono tante piccole particelle di cibo particelle organiche che loro riescono a mangiare però hanno un ruolo ecologico molto importante perché loro appunto si mangiano la sabbia e in un certo senso la ripuliscono guardandolo così dal basso si vede che sono parenti delle stelle marine sembra un braccio di una stella dobbiamo avere sempre rispetto per tutte le specie anche quelle che all'inizio ci possono sembrare un po' brutte quasi un po' schifosette in realtà sono meravigliose pensate che in questo momento le oloturie sono in pericolo anche le nostre oloturie che vivono nel mar Mediterraneo perché in Cina e nei paesi asiatici le mangiano e purtroppo c'è un mercato nero, mercato di frodo, di persone che anche in Italia le catturano in mare, ne prendono tantissime e le vendono in Cina soprattutto quest'estate ci sono stati diversi casi, diverse segnalazioni in Puglia in particolare dove dei pescatori di frodo catturavano queste oloturie e le vendevano in Cina dove vengono vendute a caro prezzo facendo un danno enorme per il nostro mare Ciao a tutti Alla prossima volta Ristate a casa perché c'è ancora un virus Ciao